ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video da oggi ci sarà il nostro con tutto il tutorial momento sponsor dove ringrazio gli amici di Eneba che permette la creazione di questo video dove potete andare su questo sito eneba.com slash it dove potete comprare le vostre steam key oppure la playstation key le playstation card i boni amazon i fortnite vbugs i fifa points oppure anche i mesi di spotify l'abbonamento a netflix oppure se volete comprare qualsiasi gioco ci sono anche i giochi economici a prezzi scontatissimi come questo doom eternal ragazzi a 14 euro e 10-15 euro vi comprate il gioco con paypal che è un ottimo acquisto e vi arriva tramite mail la vostra chiave in digitale dove potete riscattare su steam che poi oltre a questo ragazzi ci sono anche delle varie offerte dove potete vedere il prezzo migliore più basso ci sono anche altri giochi come l'fc25 dove potete riscattarlo anche su playstation store ve lo comprate tramite il sito di reneba ragazzi e supportate me e il canale e niente ora vi lascio al video ciao a tutti belli ok vediamo se si carica è arrivato kenshi oh gli hanno tolto ciò che amava ma ora è circa di 20 euro ma ora è circa di 20 euro ma ora è circa di 20 euro quindi noi invece è così aspettare i cresti crepe che torna anche tra 4 giorni ne metto il SpongeBob B ho diamo il power mille grazie chanbake seclio di plankton quando colpisci un nemico ottieni una colpetta di plankton che per un breve periodo permetterà ai tuoi colpi di inseguire i nemici e ti darà a muovere più velocemente certo che come skin solo quello di Sandy è quello di Squiddy che ho preso però devo sbloccare prima Mortis quanti verdoni 2470 ah eccolo Kenji il parchetto comincia questo nuovo samurai qua nuovo broler Kenji leggendario a mezzo il pesce il pesce la forte la forte la forte è bella neco dorata Questa è figa Andiamo a farci qualche partita Inizio di ripartaio, un po' giotto, grifo, grifo andiamo a farci qualche partita ragazzi andiamo Oh spendi i verduri che la stagione di spongebob sta sempre finita spenditi un po' di verduri prima che spariscono eh si ma se non c'è qualcosa che mi garba il primo dai che siamo quasi vicino per mortis prima E' che non c'è nessuno qua E' che non c'è nessuno qua E' che non c'è nessuno qua Per due E va bene ragazzi mettete mi piace Comunità iscrivetevi al canale Non sempre ci vediamo in prossimo video Ciao a tutti belli Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti